La bottle flip decide cosa farò per 24 ore Posso fare colazione? Inizia bene questa giornata Almeno in palestra? Oh, peccato Posso andare all'idromassaggio? Ok, questo sì che è bello Relax assoluto E tanto che ci sto vado anche in sauna Posso mangiare delle patatine come snack? Bottle flip fatta Meno male, avevo una fame assurda Visto che mi trovo a Marsiglia Posso farmi un giro? Che bello Ho scelto di andare in spiaggia e prendere un po' di sole Un po' di shopping? Posso farlo? Niente, vabbè dai Almeno ho risparmiato un po' Lasciate like e vi iscriverete al mio canale? Sì, dovete farlo adesso